Le parole sicuramente hanno un peso e a volte si usano delle parole inopportune ed è chiaro questo. Questo però non deve distogliere dagli elementi fondamentali che sono stati espressi nell'ambito di quella dichiarazione. La parola ghigliottina è stata utilizzata dalla Presidente Boldrini per indicare ciò che ha fatto ieri. Questo solo tendo a precisare.